Scamorzine, panate cucino io, sotto marca Todis. Ho assaggiato altre roba, tutta buona, vediamo com'è questa. Tutto in friggitrice all'aria, l'ercia dei fritti passati, e dell'ercia pure lei, devo dire, massima potenza, ce ne sbattiamo le palle delle istruzioni. Quando esplodono sono pronte. Il tutto accompagnato da carne finta, che no, non mangio mai, tipo due volte l'anno, ma non è male. Niente a che vedere con l'hamburger che mi faccio normalmente, però è buono. Ho perso il conto, boh, dieci minuti, comunque sono esplose. E pronti, pranzo indiscutibile, ma vabbè. Oh, buono. Stanno di scamorza. Filano, 8.000 gradi. Io non ho niente da dire di male su questa roba. È finito, però dieci minuti ci sarà da a friggere. Sono per fritti, quindi i fritti ci sono da là, vengono bene. Il mini assaggio del panino fatto con cipolle quasi crude, in realtà l'ho messo sulla piastra, salsa burger, filadelfia perché ce l'avevo. Vediamo. La salsa burger copre qualsiasi sapore. Filadelfia, sta meglio delle sottilette, bravo. Oh, scusate, faccio schifo in privato. Queste promosse, gli darai un sette e mezzo, io le ricomprerò, quindi. Finto, ma da tante soddisfazioni. Sono il comandante Sheppard e questa è la mia salsa preferita. Tutto buonissimo, una sala alimentazione a base di grassi saturi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.